Ciao amici benvenuti nel mio canale guarda e impara. Ehi, siamo qui. Si è sentito gridare uno dei fotografi Ande Ercel e Kerem Bursin sul tappeto rosso dei G.A.U. Golden Wings Awards, Digital Iceri Codulleri, Digital Content Awards, a cui hanno partecipato insieme. Il fatto è che, poiché i protagonisti di Eda e Serkan non riuscivano a staccarsi gli occhi di dosso, gli addetti stampa hanno trovato difficile avere immagini di entrambi che guardassero altrove rispetto a loro stessi. L'elegante coppia che interpreta Eda Yildiz e Serkan Bolat in Sencal Capimi, il successo dei sonnellini di Canal 9 Televida, è arrivata all'Università Americana di Girne, nella città di Chirenia a Cipro, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione, e dal dal momento in cui mettevano piede sul tappeto rosso fino a quando non se ne andavano erano al centro dell'attenzione. L'intimo scambio di sguardi d'amore e di complicità è stato più che eloquente, infiammando l'intero fandom di Cancelletto Anchor e tutti i media. Durante l'evento in cui sono stati nominati come miglior attore maschile e miglior attrice femminile, entrambi per i loro ruoli da protagonista in Love is in the Air, si sono visti molto affettuosi l'uno con l'altro. In effetti, Kerem non ha mai smesso di guardare Ande e i partecipanti all'evento hanno commentato dietro le quinte che sembra assolutamente innamorato di lei. Non smette per un secondo di guardarla o di prestare attenzione a ciò di cui Ande ha bisogno. I fotografi e i cameraman che hanno lavorato per diversi media coprendo la premiazione e il welcome, possono attestare che il sentimento è reciproco poiché anche Ande non distoglieva agli occhi, dal suo fidanzato, al punto che nel mondo Cancelletto Anchor era proprio loro e non non guardare le telecamere perché le persone possano fare il proprio lavoro. Fu proprio lì che uno dei fotografi gridò loro, ehi, siamo qui. Come a dire guardate anche noi. Il G.A.U. Golden Wings Awards Digital History Codulleri è un premio che premia fondamentalmente personalità che, oltre ad essere importanti e riconosciute per il loro lavoro nei media tradizionali, promuovono nuovi modi di comunicazione come le piattaforme di social media. Così Ande e Kerem sono stati nominati ed entrambi hanno preso le loro statuette come grandi vincitori della serata. Ma, al di là del premio, sono state le manifestazioni di affetto del pubblico a catturare l'attenzione dei presenti e dell'intera stampa. Mentre i suoi fan impazziti hanno riempito le reti di scatti e video di quel momento magico che sperano si ripeta presto. La questione degli sguardi d'amore da Ande a Kerem e da Kerem a Ande non è nuova. In effetti, è così che sono iniziate le voci. Sia nella diretta Instagram che la coppia ha fatto nel bel mezzo delle registrazioni di Eda e Serkan, sia nelle scene stesse. Era chiaro a colpo d'occhio che c'era chimica e una complicità che andava oltre la semplice amicizia che poteva nascere dalla condivisione del set delle riprese. Grazie. 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 Grazie.